Si è disputata ieri la prima giornata del campionato regionale individuale allieve gold di ginnastica artistica femminile. Presso la sede della Scuola dello Sport di Ragusa hanno gareggiato le allieve suddivise per età nelle classi A1, A2, A3, A4. Buone le performance delle ginnaste ispicesi che hanno affrontato ieri con grinta e tenacia il massimo livello della ginnastica agonistica, il gold, dove si selezionano le migliori ginnaste a livello, prima regionale e poi nazionale. A gareggiare per la categoria A2 sono state Greta Di Rosa e Mariele Fava che rispettivamente conquistano il quinto e sesto posto per la categoria A1. Giulia Salemi che sale sul podio conquistando un ottimo secondo posto, mentre Ruta Soraya della A2 non ha potuto prendere parte alla competizione per un infortunio del giorno prima. Le ragazze allenate dal tecnico Patrizia Lorefici hanno affrontato ben cinque attrezzi, volteggio, parallele, cinghietti, trave e corpo libero con coreografia per arrivare alla classifica finale della prima giornata. Un bilancio più che positivo, dichiara il tecnico, con buone posizioni conquistate e soprattutto con grandi soddisfazioni per la notevole crescita tecnica ed agonistica raggiunta dalle giovani allieve. Bisogna concentrarsi ancora di più, è ovvio, lo faremo con gli allenamenti costanti per arrivare alla seconda prova prevista il 16 febbraio, pronti a conquistare posizioni sempre più alte.